Secondo voi, avrò startato la registrazione? iPixel, oggi facciamo una challenge che mi avete detto voi nei commenti E dico voi, dico veramente voi Bella a tutti i burloni, sono Arce e benvenuti in questo nuovo video sul canale Oggi ragazzi siamo tornati su iPixel perché voglio fare una challenge consigliata da un ragazzo di voi Nei commenti che si chiama Fabio, il buon Fabio ovviamente Grazie Fabio per avermi consigliato questa challenge, oggi la faremo E voi altri continuate a consigliarmi delle challenge ignoranti da portare appunto sulle Bedwars Sarò da solo perché non ho voglia di fare un video con qualcuno Mi sono tutti sul cazzo oggi, veramente Adesso scrivo a Marco e mi sono tutti sul cazzo No, essenzialmente no, essenzialmente è tardi E mi... E si è addormentato il piede Che male Fa malissimo Ma fastidio Comunque la challenge di oggi, prima di dirvela dovete lasciare un like al video Perché se arriviamo a 4.000 like farò una nuova challenge settimana prossima E prima che inizi il video, sabato e domenica, sarò presente al Tirono Comics con queste maglie forse Ma sicuro con queste felpe Guardate un po' Ve le avevo promesse, eccole qua E poi ci saranno anche le magliette nere di Vanillama e no problema Però quelle lì sono a parte Ve le avrò fatte vedere nell'intro Allora, la challenge consiste nel fare una Bedwars Nel quale io dovrò cercare di sopravvivere solo utilizzando una spada, ok? Non posso avere piccone, non posso avere niente Solo e unicamente spada E ovviamente possiamo craftarci blocchi Se vogliamo però fare un qualcosa di ancora più estremo La prossima volta useremo solo e unicamente la spada Senza blocchi Ovvero che la gente si deve collegare a me per provare a ucciderli Secondo me è fattibile Ma è un po' difficile Ci è capitata una mappa molto, molto carina Quindi possiamo provare a fare qualcosa di bello, belloso Allora, talagando un sacco il server ragazzi stamattina È veramente un disastro Me ne sono accorto perché Prima ho provato a registrare un altro video Sempre su Apixel Ed era irregistrabile Cioè una cosa che dici Porco 2 Cioè, vabbè Comunque Oh, siamo a blu Che bello, il mio colore preferito con il giallo Allora, cerchiamo di prendere blocchi Con 12 pezzi Dovremmo Ehi, però Aprimi per favore questa roba Grazie Ma veramente devi laggare così tanto? Ma non è che sono io che laggo Ma da marci Tre tacche No, siamo un pochino tutti che lagghiamo Quindi cerchiamo di andare subito da questi qua di lato Lo so ragazzi Sarà difficoltosa come cosa Però Ci possiamo provare Ci possiamo provare È una challenge che secondo me Fatta in compagnia È ancora Ancora più bella Di quello che secondo me Già è Cazzo questo qui ci ha Ha messo il legno Potrebbe essere un problema Uè Bomber Ciao Ciao Bombero Vai, vai Vai Ok, ha distrutto il mio letto Ma io ho distrutto il suo E questa è una cosa più che buona E questa è una cosa più che buona Ehi Tu Ehi tu Ehi tu Ehi tu Madonna mia Guarda come lagga Guarda come lagga Ma non può laggare così tanto Sono morto io Ma perché sta laggando come lo scroto Cioè lagga troppo Non posso fare una bad horse di questo tipo No No Comunque proviamo andare a prendere subitissimo Del diamante Allora ragazzi Considerate che Noi non possiamo fare niente In realtà neanche gli upgrade Cioè ho detto una cagata Non posso andare Io posso prenderselo La La lana E le spade Quindi posso andare a prendermi lo smeraldo Dal centro Volendo Nel quale Con il quale Appunto lo upgrade Lo faccio in diamante Ma non posso fare nient'altro Questa cosa potrebbe essere pesa Potrebbe essere veramente tanto pesa Perché Perché si essenzialmente C'è qualcuno che sta già non dal centro E questo qui sta non dal centro Ok Ma non ci credo che è caduto Ma non ci credo mai nella vita Che sia caduto sto qua Ma porco due Spacca 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 Prima che Cazzo Non sono riuscito Cazzo Sta arrivando da me a quello lì adesso Sono responato No aspetta 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 Veloce Fammi un altro pezzino di oro Che posso farmi l'upgrade Alla spada Dai veloce Veloce Che non ho perdato niente Dai veloce Dai Un altro pezzo No Allora Allora Dai vieni qua Cucciolo Sì Vieni qua Oh l'ho buttato giù io Wow Mi piacciono queste cose Ah A me si piace Si vede questa cosa Comunque In realtà Ci ho perso Adesso Io posso bardare Cioè Basta che bardo con la lana Quindi potenzialmente Noi una bardatina Ina Ina Ce la possiamo anche fare Cioè Oddio Non è molto Ina Cioè Non è molto bella Però insomma Chi prova a beccare così Ah no cazzo Raga Non è un 1-9 L'ho ucciso Porco 2 Però non è un 1-9 Bad destroyed Da rosa Shit Devo scappare veramente tanto adesso Ok Il rosa Ha buttato giù il rosso Ti prego Ti prego Salvami Bumber Non mi fare male Vai a ucciderlo Sì vai a ucciderlo Smeraldo Non c'è lo smeraldo L'hanno preso tutto Qua c'è il smeraldo Minchia raga Ha veramente preso tutto lo smeraldo Ma siete seri? Ok Questo potrebbe essere un problema Perché io senza spada di 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 smeraldo Cioè di diamante Posso far veramente fatica A far qualcosa Guarda Guarda il rosa Guarda il rosa Guarda il rosa Scemo Guarda il rosa Ma sei fesso Ma sei scemo forte Eh mi ha ucciso raga Oh che bella sta mappa No questa mappa è bella Un tot raga Va diretta da quello lì Dai raga Facciamo il tot Scommessa di che colore sono Secondo me Sono il rosso Verde Scrivete nei commenti Prima che la riuscesca Vediamo se ce l'ho beccata Vediamo se ce l'ho beccata Se l'ho beccata Vi metto un cuoricino Metto un cuoricino sui commenti Vediamo Colore sono Verde Ma se ne volevo dirlo Verde Poi ho detto No ma Non può essere verde Cioè Non può essere verde Non è possibile Che sia verde Però va bene Sta registrando tutto qua Sì Potenzialmente sì Siamo a 11 minuti Ok Dovevo editare un tot Questo video Io non voglio editare i video Voglio fare un cut Guadagnare soldi Facile e tutto E invece E invece Si fa più difficile la storia Marci Si fa più difficile la storia Marci Io andrò direttamente Comunque da quello di lato Che in questo caso è il giallo Che sta già bardando Con il legno Ne abbiamo 32 più 64 Non sono male Io non bardo raga Tanto alla fine Cioè Non possiamo fare praticamente niente Eh lui mi ha visto invece Lui mi ha visto invece Ok è caduto raga È caduto Spacca 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 Marci Spacca Spacca prima che responi Ok Ok ragazzi Prendi tutto il primo Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Mare c'è Mare c'è Mare c'è Mare c'è Mare c'è Sì Sì ragazzi Prima kill Solo di spada ragazzi Solo di spada Mamma mia regà Mamma mia regà Abbiamo tutto l'oro possibile Che ci può riservire Per fare un'altra spada A me mi distruggono Quindi a sto punto A me tocca Aspetta Questo qui è l'azzurro di qua Uuuu Interessante Interessante Uuuu Shit 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 Sbam Mi ha distrutto anche l'azzurrino Però lui potenzialmente viene da me adesso Lui adesso viene da me Eh Tu viene da me adesso vero? Guardalo che va da me Guardalo che va da me Era sicuro al 100% sta cosa Però io devo andare a ucciderlo sicuro Vieni qua bombero Perché non vieni qua? Perché non vieni qua? Non c'è le palle di venire? Eh non c'è le palle Va a uccidermi e basta Però lui ha preso danno adesso Quindi ragazzi Approfittiamone di sta cosa Che ha preso danno Ok Io sono con molto meno danno Quindi posso farlo fuori Eeeez Questo è tutto È tutto fatto per bene No 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 Sono morto Questa challenge è impossibile Mi rovinerà l'anima Mi ammazzerà l'anima Non ce la posso fare Avevo sceso due letti E' facile Non è così facile come penso Devo tornare indietro prima Siamo in base Guardavo un pochino Tanta lana E riproviamoci All'ultima volta Ragazzi Ragazzi Mi viene difficile Fare queste challenge Perché Se rimanessi un sacco di tempo Ce la potrei anche fare Ma se devo fare una cosa Un pochino più veloce È difficile È difficile ragazzi È veramente difficile Allora ok Quanto Qua bisogna fare una cosa fast Bisogna capire dove sono gli altri E siamo troppo lontani Ok Ho lui vicino Toto cosa è lo rosso Forse ragazzi Almeno gli upgrade Dobbiamo permetterci di farli Perché sennò Diventa un bel disastro Allora Se io passo da Di qui Da lui Guarda che mi ha tolto il blocco Ma puoi togliermi il blocco sotto? Cioè Io l'ho pure shiftato Ma scusami Guarda che se ne va Guarda che se ne va Ehi ma dove stai andando Vomvero Vuoi venire qua Eh Ma mica ve ne vado io Guarda che se ando lì Ok Sì raga Non so se ho tempo di spaccare Però eh ci vuole troppo Ci vuole troppo raga Vai vai Veloce 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 Sì Guarda che tu uccido Guarda che tu uccido Guarda che tu uccido Guarda che tu uccido Ciao Ok raga Uh Perfetto raga Perfetto 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 Facciamoci la spadina In ferro E già ragazzi Siamo messi meglio Già ragazzi Siamo messi meglio ragazzi Ok Adesso io ti direi Vi direi anzi Colleghiamoci al centro Da quest'isola qua Perché almeno Se mi collego il centro Da quest'isola qua Mi vado a prendere I miei smeraldini Con quegli smeraldini Mi vado a fare la spadina E con quella spadina Eh La spadina in diamante Pesa Io vi dico Per questa ultima partita Io sono quasi tentato Di fare gli upgrade Ok Con upgrade intendo Le cose in diamante Essenzialmente Cioè le cose che Possa pure dare col diamante Perché almeno Dobbiamo a vedere Se con quello Riusciamo a fare qualcosa Anche perché Non siamo pari con gli altri Se no Cioè capite Se io mi metto lì E combatto con uno che ha Sharpness, protection Tutte queste cose qua È un po' difficile Noi alla fine dobbiamo fare Una challenge Di sola spada Però non abbiamo detto Che non possiamo usare Cazzo qua No guarda che non mi Non riesco a Ok l'ho ucciso raga L'ho ucciso con due cuori Ok Potrebbe essere un problema Questo Cioè devo andare Devo scappare Devo scappare Proprio Proprio pesante Devo scappare Proprio pesante Prendiamolo Uno si WTF Zio sono più forte di te Basta Non è che devi dire Che ho le hack Ragazzi non ho hack Mai usati Manco so come si usano Per altro Cioè una volta L'ho visto nel video Di Marco Perché lui è un hacker Di merda Fa schifo Marco Fa veramente schifo Marco Raga è un hacker Va bene Facciamoci sta spada in diamante Ragazzi E minchia se ce la facciamo Se gliela famo Io ve lo dico Cioè pesante Pesante Allora facciamoci sta spada in diamante Ce l'abbiamo Non possiamo farci altro Abbiamo detto È così raga Dobbiamo andare in giro Con sta spada in diamante E nient'altro Noi non possiamo farci neanche piccone Cose varie Ricordatevi sta cosa Qui non posso fare tipo No qua devo per forza No mi hanno distrutto il letto Oh e no io E no io Dall'altra parte è arrivato Dall'altra parte Target Mamma mia ragazzi Che schifo Quelli che fanno così Che schifo Che schifo Cioè dall'altra parte è arrivato Per darmi fastidio Ma vi rendete conto? Vabbè Siamo senza letto raga È un problema È effettivamente È un problema Perché non abbiamo neanche Le robe per upgradeare Adesso lui secondo me Arriva da me Per uccidermi È sicuro che sia così Quindi che cavolo facciamo Che cavolo facciamo Abbiamo solo una spalla in diamante Non abbiamo Né armatura Niente Quindi rispetto agli altri Siamo messi male Siamo essenzialmente Messi male Rispetto agli altri Se lui se ne andasse Dalla sua isola di cacca Lui se ne andasse Guarda lì Io lo seguo Però secondo me Lui li triggeriamo La trappola Ma è un fan Dai se vuoi far schifo E' scritto No Ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Non ci voglio più provare Perché Perché è andata Cioè Non si può No Non si può Se voi volete La rifaccio E ci provo A usare anche Gli upgrade col diamante Cioè Vedete conto A Dream Si è disconnesso Cioè Se ne è andato Se ne è andato Lui Lui se ne è andato Lui se ne è andato Lui se ne è andato Se ne è andato Lui se ne è andato Perfetto Cioè Mi ha ucciso E se ne è andato 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 E se ne è andato